Ecco come Jurassic Park ha rivoluzionato il cinema. Prima strategia, effetti rivoluzionari. Vedi, Jurassic Park ha rivoluzionato l'industria cinematografica con l'uso pioneristico del CJI. E questo ha permesso agli spettatori di vedere per la prima volta i dinosauri estremamente realistici sul grande schermo. Ed era realmente una novità assoluta per l'epoca. Secondo elemento, la regia. Spielberg ha saputo mescolare suspense, azione, momenti emozionanti, creando, che cosa, un'esperienza cinematografica che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo. La sua abilità, più grande, sta nel costruire tensione specialmente in scena iconica come quella del T-Rex che attacca la Jeep, che ha reso poi Jurassic Park, dal mio punto di vista, realmente un capolavoro. Terzo elemento, il marketing. La campagna di marketing di Jurassic Park è stata estremamente efficace, con un'attenzione particolare ai teaser e ai trailer che mostravano solo frammenti dei dinosauri, aumentando così l'attesa e la curiosità. Inoltre il merchandising legato al film, dai giocattoli ai videogiochi, ha creato un vero e proprio fenomeno culturale, ampliando l'impatto devastante del film al di là del mondo del cinema. Quarto e ultimo elemento, colpire la massa. A quale persona non piacciono i dinosauri? Pensaci. Il film esplora i temi come l'etica scientifica, il controllo dell'uomo sulla natura e le conseguenze del gioco con la genetica, e questi temi, insieme all'idea affascinante di riportare inviti ai dinosauri, hanno catturato l'immaginazione della grande massa. E in questa maniera il successo è stato praticamente prevedibile, ma soprattutto garantito. Ora dimmi, hai mai visto questo film? E come puoi applicare queste strategie al tuo business?